Ed è l'ultimo dell'anno la notizia che sono stati sbloccati questi 20 milioni di euro dal Ministero per gli interventi sulla cultura e sul sociale a Chieti. Sì, un finanziamento importantissimo al quale abbiamo sin da subito creduto. Ci siamo dedicati alla cremente, soprattutto con l'assessore Rispoli al quale va un grande plauso, l'assessore Maretti per il sociale. Ci siamo dedicati a questi tanti progetti racchiusi in un programma chiamato Rigeneriamo Teate che riguarda la linea di finanziamento ministeriale e rigenerazione urbana. Tra gli altri progetti dei quali mi sono occupato c'era un mio pallino sin dall'insediamento e dai tempi della campagna elettorale, quello del recupero e restauro di Palazzo Massangeli qui alle mie spalle per creare un velo polo culturale attorno al Teatro Marruccino, l'ex cinema Eden, abbiamo gli ipogei della Chieti sotterranea, abbiamo davvero tante tante opere, finalmente l'adeguamento funzionale del super cinema che potrà tornare a norma e alla luce in tutto il suo splendore, fruibile alla cittadinanza, insomma tante tante opere sulla cultura, sul sociale, sulla rigenerazione urbana che attendevamo e credo che sia l'opera più, il finanziamento più significativo forse degli ultimi 40 anni, 20 milioni di euro in un unico colpo, veramente siamo molto soddisfatti, siamo felici perché di qui ci sarà la Chieti del futuro. Parliamo in particolare di qualche opera che sta a cuore a lei, Palazzo Massangeli per iniziare? Palazzo Massangeli finalmente per ampliare il Teatro Marruccino, per i suoi camerini, per le sue sale, per la recitazione, per le sale prove, per creare degli spazi utili al Teatro Marruccino ma soprattutto per recuperare questo palazzo bellissimo, storico, nobiliare, molto prestigioso che è abbandonato ormai da oltre dieci anni. Un altro degli interventi riguarderà il Cinema Eden in Via dell'Hollis che tornerà a nuova vita e sarà adibito a cosa? Ma sarà adibito a sia spazi sempre per il Teatro Marruccino, sia una sala eventi, conferenze, mostre, io vorrei valorizzare l'arte contemporanea in questa città e quindi insomma veramente degli spazi espositivi e ampi, importanti, recuperati dopo tantissimi anni, oltre dieci anni, che l'ex Cino Eden è totalmente abbandonato, un pallino che abbiamo centrato, un obiettivo che abbiamo portato a compimento con l'amministrazione tutta, con il sindaco Ferrara, con l'assessore ai lavori pubblici, insomma siamo davvero soddisfatti di questo grande finanziamento della rigenerazione urbana.